Inaugurato il centro di urno il filo della memoria a Lanciano, il centro di urno il filo della memoria aperto le sue porte a Lanciano in via Piave 75 offrendo un prezioso sostegno alle famiglie colpite dalle demenze. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato l'assessore al sociale del comune di Lanciano Cinzia Moroso insieme al presidente GMG il dottor Sandro D'Ercole. Il centro si propone di diventare un faro di speranza offrendo servizi dedicati a un ambiente accogliente per le famiglie che affrontano questa sfida. Questa è una giornata sicuramente da festeggiare per il territorio per tutto l'ambito frentano perché finalmente apriamo il centro di urno per le famiglie in cui i familiari sono affetti da demenza senile. Chiaramente è un passo avanti importante che abbiamo iniziato a programmare nel momento in cui abbiamo redatto e steso il nuovo piano sociale distrettuale e di conseguenza è venuta fuori l'esigenza sul territorio di dover coprire questa fetta di persone. Parliamo chiaramente di persone over 60, over 65 che iniziano ad avere uno scompenso neurodegenerativo cronico non gravissimo e che quindi grava sull'economia e sulla presenza delle famiglie quindi è anche un centro di sollievo per le famiglie perché possono accompagnare i loro cari in questo posto dove verranno accolti da educatori, psicologi, os, insomma professionisti del settore. Qui si è formata un'equip che ho avuto l'onore di conoscere, il tutto con una ferma collaborazione con la ASL. Abbiamo coinvolto il nostro direttore sanitario di presidio del distretto sanitario nella figura di Raffaele Di Nardo e tutti i suoi collaboratori gelatri a partire dal dottor Colacioppo, Fabio Marsoli, insomma tutti quanti. Io devo fare i più sentiti ringraziamenti innanzitutto ai sindaci dell'ambito frentano che hanno creduto in questa idea assieme a me, al mio sindaco e a tutta l'amministrazione a partire dai consiglieri che mi hanno sempre appoggiata, supportata e aiutata. I consiglieri, la giunta, la mia capogruppo consigliare Paola Memmo, i dipendenti comunali del settore, la dottoressa Sabarese, insomma senza il gioco di squadra aprire questo centro non era possibile. E poi la Global Med, la Global Med che ha individuato i locali e ha risposto con un programma, una carta di servizi ampia, ricca e funzionale per cui insomma sono contentissima di questa collaborazione. Diciamo che è una nuova risorsa sicuramente a disposizione sia dell'intero territorio, quindi dell'intero ambito sociale territoriale lancianese, ma soprattutto è una nuova risorsa per l'utenza che può ovviamente da questo momento in poi contare su un servizio sempre seguito sia dalla parte sanitaria che dalla parte sociale che va a alleggerire un pochettino quello che è il percorso istituzionale, ovvero magari avere un percorso più residenziale e quindi questo qui è un percorso sicuramente più leggero e più alla portata di persone con un'autosufficienza sicuramente non molto grave, ma che può appunto in un certo qual modo gestire la giornata e quindi scandire i tempi della poca giornata. Io definirei questo centro un po' come una presta della mente perché ovviamente intendiamo fare delle azioni che portano il non autosufficiente a mantenere le abilità mentali che ha, quindi andremo a stimolare sicuramente questo aspetto dei ricordi di ciò che magari ha fatto nel passato in maniera tale che possa diventare una risorsa non solo per se stesso ma un po' per tutti i frequentanti del centro, quindi sviluppare, riordinare le proprie competenze che si erano acquisite durante la propria vita, rimetterle insieme e rimetterle nuovamente a disposizione della comunità. Questo è l'obiettivo principale.